Meriterebbe una ribalta nazionale, se non addirittura internazionale, il gelese Grazio Mezzasalma, che da 30 anni coltiva con grande entusiasmo una passione che perfettamente si innesta nella storia di Gela, facendo rivivere con le sue opere i fasti dell'antica Grecia. Mezzasalma riproduce in maniera fedele ed impeccabile antichi tesori di un'epoca gloriosa per la nostra città. Vasi, crateri, peliche, lucernai rivivono nel loro splendore e sembrano davvero appena scoperti da un archeologo. A scoprire questo talento lo storico Nuccio Mule che ha unito con successo i propri studi scientifici alla passione per la storia. Io sono convinto sulla base di quello che ho studiato che Grazio Mezzasalma ha carpito i segreti dell'arte ceramica attica greca e l'ha carpito abbastanza bene perché è riuscito a modellare e a proporci dei reperti che difficilmente riescono a differenziarsi da quelli veri. Per il semplice fatto, ripeto, che ha scoperto il segreto della ceramica attica. Ma non solo, ha scoperto i due segreti della ceramica attica perché, per chi non lo sapesse, la ceramica attica è divisa in due periodi, quella che va dal 580 al 520 ed è a figure nere sul fondo rosso e quella che va dal 520 al 330, sempre avanti Cristo, a figure rosse sul fondo nero. Lui è riuscito a scoprire, semplicemente utilizzando argilla ferruginosa di un certo valore e una monocottura in tre fasi, come si fa un vaso, come si faceva allora un vaso e come lo fa adesso. Come ha scoperto questa sua passione ma soprattutto da dove è nata? Questa passione nasce tanto tempo fa, non è una cosa semplice perché all'inizio io cominciai, sono stato innamorato dall'argilla e successivamente ho conosciuto una persona che, una persona anziana che tempo prima faceva il lavoro di questo genere, di tornio, non di pittura, cioè come i cosiddetti bummola eccetera eccetera, tegole e quindi io conoscendo questa persona vedi ciò che riuscivo a fare senza tornio e si innamorò di me e allora lui mi dite la spinta. Lei come realizza queste riproduzioni guardando fedelmente il modello originale? Sì perché ormai io sono dentro, riesco a capire il modello del vaso, come si chiama il vaso, riesco a capire come viene adoperato l'argilla e per cui adesso per me diventa facile, ma non è stato così perché io nel corso per arrivare fino a qua ho avuto dei passaggi, delle tappe, non è che sono arrivato qui, devo dire che sono passati 30 anni, non un giorno, 30 anni. Peraltro lei è anche fortunato perché il suo talento si innesta tra l'altro in una città che è la patria, è stata ma lo è ancora la patria di questi oggetti così preziosi. E' vero, io confermo questa e devo dire su questo soggetto, su questa risposta, io sono un po' arrabbiato, sono un po' arrabbiato con coloro che hanno una poltrona e che io diciamo ho passato di queste poltroni, di questi personaggi, non hanno fatto stima. Io non solo per il fatto del comune ma sono andato nelle scuole perché io volevo dare un contributo a queste scuole presentando normale domanda eccetera eccetera, ma in realtà non ho avuto nessuno riscontro.